Ora è la volta di Emanuele Gaudiano, quindi ancora un po' di brivido per noi che tifiamo, evidentemente poi Gaudiano è uno straforte e soprattutto queste sono gare dove dà il meglio di sé, velocissimo Emanuele Gaudiano, cavaliere nato nell'86 a Matera, vive ormai da tempo a Francoforte con la moglie Enric, due figli Lisa e Delia e sembra velocissimo Gaudiano con la sua Carlotta 232 femmina baioscura del 2009, ci accommo per 100, vediamo se no, un errore, un errore per Emanuele Gaudiano, veramente un peccato perché come vedete dal tempo indicato era piuttosto veloce e se non si fosse distratto per quell'errore, questa era la gara, la gara della giornata era di Emanuele Gaudiano fino a questo momento 43.29, quindi è il tempo più veloce per il cavaliere italiano, bravissimo